gentili telespettatori buona giornata benvenuti a questo video di tele italia matteo salvini a palermo per la vicenda open arms dovrà presentarsi davanti al gupp giudice udienze preliminari il gupp dovrà decidere dopo aver ascoltato matteo salvini con la sua difesa e l'avvocato buongiorno avrà avendo poi letto le all'accusa avendo poi letto la difesa prenderà una decisione rinviare matteo salvini a giudizio cioè aprire effettivamente il processo contro salvini oppure archiviare il tutto perché il fatto non sussiste l'accusa è grave sequestro di 147 persone quindi un serial sequestratore un sequestratore in serie uno dei più grandi sequestratori della storia mondiale ecco da guinness dei primati e abuso di potere rischia fino a 15 anni di galera senza condizionale ma forse i giudici puntano a dargli solo l'abuso d'ufficio qualche due tre anni con la condizionale così da farlo decadere dalla posizione di senatore e farlo fuori dalla politica come era stato fatto fuori silvio berlusconi con il caso mediaset molto dubbio secondo me è stato accusato ingiustamente del poi condannato ingiustamente quindi a catania si era stato ad ottobre la prima puntata di questo dove salvini era comparso con molte persone che erano andate per sostenerlo intanto diciamo che arriva a palermo 24 ore prima dell'udienza preliminare va a porre un mazzo di fiori in via d'amelia dove è stato ucciso il leggendario giudice paolo borsellino e i cinque agenti della scorta e così viene fuori poi il putiferio la perché si presenta con la mascherina con l'effigie la fotografia di paolo borsellino del giudice antimafia poi il corteo di sei macchine che accompagna il leader della lega alla sede dell'assemblea regionale per incontrare il governatore altri esponenti della maggioranza di centrodestra e lì il capo della lega annuncia che stiamo lavorando perché il prossimo presidente della regione sia un leghista intanto l'ex ministro dell'interno salvini dovrà andare in procura oggi a palermo dopo l'istruttore del tribunale dei ministri e l'autorizzazione a procedere concessa dal senato della repubblica quindi dicevamo rallentò lo sbarco matteo salvini tra il 14 e il 20 di agosto del 2019 della nave open arms che non ne volle sapere di andare in spagna per nessuna ragione vollero andare in spagna perché il fondatore diceva beh insomma meglio farsi sequestrare la nave da salvini perché lì in spagna non scherzano lì c'è il sequestro della nave lì c'è la confisca della nave lì c'è la multa da un milione lì c'è anche l'arresto e già il governo spagnolo aveva intimato questa ong di smetterla di salpare per andare a prendere i clandestini davanti la livia ma non era stato ascoltato quindi non avevano nessuna intenzione di tornare in patria con i clandestini e così dal 14 al 20 agosto viene rallentata la lo sbarco di queste persone per permettere appunto o una redistribuzione in europa europa non ne volevano proprio sentire o comunque che questa nave andasse nel stato di bandiera sventolava la bandiera spagnola andate nello stato di la spagna era disposta vi stiamo aspettando no ma venite vi stiamo aspettando dai dai venite questo era il senso no e poi hanno detto vabbè non volete venire voi veniamo a prendervi noi con delle navi militari quindi e alla fine niente da fare sono rimasti lì davanti perché dovevano vincere contro il governo italiano vincere contro salvini vergognoso ma mai andato così quindi adesso nell'aula bunker del carcere del lucerdone dove si celebrò il maxi processo alla mafia istituito da falcone e borsellino si troverà il giudice per le udienze preliminari il guppe lorenzo i annelli e comincerà la partita giudiziaria che si concluderà con la decisione dello stesso guppe pro scioglimento o rinvio a giudizio cioè chiudiamo tutto perché il fatto non sussiste o matteo salvini ha processo questa però è differente dicono dalla partita di catania dove l'accusa chiederà di mandare il ministro l'ex ministro a processo il procuratore francesco lo voi la giunta marzia sabella il sostituto calogero ferrara al loro fianco gli avvocati delle parti sì civili almeno nove tra migranti e membri dell'equipaggio dell'open arms e associazioni come accoglie rete e lega ambiente che a catania svolgono di fatto il ruolo di unici accusatori perché la procura di catania chiede il proscioglimento per matteo salvini quindi gli unici accusatori sono nove clandestini membri dell'equipaggio della open arms che non volevano andare in spagna e delle associazioni lega ambiente e accoglie rete sono queste sono le parti che accusano matteo salvini mentre la procura ne chiede il proscioglimento la difesa è affidata a giulia buongiorno ex ministro e avvocato e senatrice del della lega che pure in questo caso insisterà che non c'è stato nessun sequestro perché le mosse di salvini erano un'automatica conseguenza delle scelte politiche effettuate dall'intero governo nel perseguimento dell'interesse pubblico e un corretto controllo e una corretta gestione dei flussi migratori nonché una piena tutela dell'ordine pubblico come sostenuto la stessa linea difensiva utilizzata a catania per il caso gregoretti che ancora lì il giudice dovrà ancora sentire conte a gennaio per poi prendere una decisione perché conte non si era presentato a catania vi ricordate detto io non vengo c'ho da fare se volete venite voi glielo permette la legge diciamo così ma diciamo che qui l'ex ministro decretò come dicevamo l'ingresso della nave in acque italiane il 14 agosto il tar del lazio sospese quel provvedimento cominciò lì secondo l'accusa il trattenimento illegale dei migranti proseguito dopo che in due distinte occasioni il premier conte stigmatizzò il comportamento di salvini perché dopo che il tar autorizza la nave a entrare in acque italiane ma attenzione il tar autorizza la nave a entrare ma non autorizza a scendere questa è c'è l'autorizzazione a entrare ma non l'autorizzazione allo sbarco e matteo salvini non autorizza lo sbarco e secondo l'accusa c'è lì un trattenimento illegale dei migranti quando entrano nelle acque italiane e non viene concesso lo sbarco e così conte aveva tacciato salvini di sleale collaborazione poi arriva il procuratore che sale a bordo fa scendere tutti i migranti sequestra la nave e interrompe quel presunto sequestro di persona che secondo palermo fu tale perché dopo la decisione del tar e la dissociazione di conte che disse sleale collaborazione non c'era più traccia dell'atto politico di governo che salvini rivendicava quindi lì poi ci sarà una discussione tecnico giuridica se l'italia l'obbligo di concedere il post o no alla open arts ma dopo il rifiuto di malta definito inqualificabile anche dal tribunale dei ministri perché dovevano andare a malta però malta è uno stato piccolo che cosa accoglie malta che è grosso come san marino vabbè intanto l'accusa dice di sì la difesa dice di no e anche perché c'era l'offerta della spagna nel frattempo il leader della lega torna sulla sua battaglia politica dice non solo rifarei tutto ma lo rifarò appena tornerò al governo grazie e buon proseguimento di giornata arrivederci grazie